ah qui vedi si non te lo ricordavi guarda ma bello qua si fa interessante stanza segreta una stanza segreta da mostrare con solini e ragazzi come va io sono feri niki e sono stef e chi si chiama hello negbo e finalmente siamo nel terzo episodio ci avete davvero riempito di commenti qualcuno anche spoiler che non ci fa tantissimi quindi abbiamo cercato di non leggere quelli insomma che ci svelano il finale del gioco ma davvero tantissimi consigli quindi siamo pronti in questo episodio a svelare anzi a iniziare a svelare i primi misteri del nostro malefico vicino ci siamo letti giusto l'inizio dei consigli perché alcuni di voi ci hanno scritto proprio dall'inizio alla fine cosa fare quindi noi abbiamo letto la parte iniziale dei vostri consigli in modo tale da andare avanti grazie ai vostri consigli però poi non abbiamo letto le altre parti così poi sarà difficile per noi capire esattamente cosa dobbiamo fare anche un po' di sorprese un po' di mistero perché davvero in questa casa ce ne sono di tutti i colori esattamente allora prima di tutto funziona così ok disattivare la luce serve davvero a non farsi vedere dalle telecamere del vicino perfetto quindi mi sembra la cosa migliore da fare proprio la prima in assoluto la prima in assoluto esatto era la teoria giusta dopodiché spegnere la caldaia serve a far squagliare cioè a congelare bravissima l'acqua così lo squalo non ci rompe le scatole in effetti nello scorso episodio non abbiamo collegato subito che è la prima volta che siamo entrati in casa abbiamo subito staccato la caldaia e infatti l'acqua dello squalo era congelata esatto non ci aveva fatto caso a questa cosa però è fantastica comunque ragazzi allora nel possibile cerchiamo di non bloccare il vicino nella nostra casa nello scorso episodio è successo davvero casualmente sappiamo di questo bug però secondo me se il vicino non c'è è troppo facile diciamo esatto non credo che avrebbe senso gioco perché si basa proprio a non farsi beccare c'è successo casualmente e diciamo che l'abbiamo sfruttato giusto per riuscire ad ambientarci però adesso cioè vorrei rendere il gioco così noi ce ne andiamo sotto il letto spegniamo anche la luce ci prendiamo questo e direi di aspettare di vedere se passa da queste parti quindi ce ne restiamo un minutino qua tranquilli e vediamo se passa dopodichè proviamo a continuare a muoverci in questo momento effettivamente non ho le cuffie quindi io non so esattamente dove si stava muovendo però sento comunque le porte aprirsi allora se sbuca da qualche parte mi fa venire un infarto te lo dico te lo dico chiaro e tondo quindi facciamo attenzione cerchiamo di scoprire dov'è vicino e poi andiamo allora sti manichini ormai mi terrorizzano io nello scorso episodio sono rimasta scioccata hai paura dei manichini ormai assolutamente è la cosa che mi fa più paura in assoluto più della tomba più della tomba perché si muovono capito facciamo così va abbiamo staccato la corrente giusto non possiamo muoversi perché mi dimentico sempre non lo so allora qui secondo te abbiamo scoperto tutto in quella stanza oppure no no praticamente da quello che ho capito noi dobbiamo mettere la campanella quindi dobbiamo andare al piano di sopra prendere la campanellina e metterla in quella stanza ok perfetto il discorso è riuscire a farlo senza essere beccati aspetta mi metto almeno una cuffia così per sentire almeno dove si muove una nuova sciarpa alla moda grazie nuova cuffia bellissima è vero sì facciamo così allora ti devo dire una cosa dimmi non noti che è un po' strano che ancora non l'abbiamo notato non l'abbiamo mai visto che cosa? il vicino ah sì assolutamente sarà andato in vacanza secondo te? non lo so cioè non c'è proprio non lo so abbiamo rubato la campanella e stiamo facendo finta di nulla ci andiamo correndo io non so dove è finito hai visto lo squalo disgraziato congelato che bello sì per il più su quello ci hanno letto uno spoiler che purtroppo ho letto l'ho letto anch'io lo vogliamo dire? no allora cosa succede se mettiamo la campanella a me non piace sta cosa come si mette soprattutto? ok quello che stavamo cercando di fare togli 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 la terra ok non c'è nessuno no c'è c'è una bara sì col piede di porco secondo te ci riesci ad aprirla? mi sembra la cosa più logica c'è un manichino ok c'è un manichino ce lo portiamo in giro? sì è quello che dobbiamo fare adesso davvero? sì cioè davvero lo dobbiamo prendere? eh sì comunque è già meno macabro di quanto pensassi no? allora mi sta inquietando tantissimo eh no perché non si sta mai ok con lui faccio gli esperimenti con i manichini per poi capito parlo con gli umani capisco perché secondo me è cattivo continuo a dirlo ho paura che il vicino sia da qualche parte qui sopra a sto punto perché di sotto non c'è ragazzi cioè non c'è dove è finito? allora allora dovrebbe funzionare così qua ce l'ho detto un altro consiglio che so anch'io cioè di risolvere le equazioni nella lavagna giusto? uno più quattro cinque smetti di tirarti le cose bruto disgraziato sei un alunno pessimo ok? ti picchio eh allora ti do un cacciotto così guarda che abbiamo un piede di porco quindi smettila ok? te lo diamo in testa non abbiamo paura di usarlo quanti oggetti abbiamo? troppi 9 meno 2 per 3 eh se vado dai perché ne devi fare a me? 9 meno 2 per 3 3 no è la risposta corretta? 3 sì ok io faccio schifo a fare i calcoli a mente ok? lo ammetto faccio schifo in matematica per quello li faccio fare a te è divertente faccio schifo 7 meno 5 3 più 1 allora 2 2 per 4 quindi 8 no c'è arrivato un fucile in faccia sì ok tutto a posto tutto tutto regolare tutto regolare qui allora invece in quella porta cosa c'era? in quella porta poi arrivavamo alla stanza delle telecamere eccetera che per ora non credo ci serva perché appunto abbiamo il fucile per giocare allora a me preoccupa che ancora non ci sia il vicino però va bene va bene ok sai che forse dovremmo riattaccare la corrente? anche secondo me vi facciamo vedere che noi non l'abbiamo incastrato qua davvero c'è c'è vi giuro che dov'è? è scomparso vicino no davvero abbiamo iniziato così cioè sto iniziendo a preoccuparmi che fine ha fatto c'è un nuovo bug magari è andata a fare la spesa diamo il fucile ok ci siamo se accendono le luci possiamo giocare come funziona? aspetta dovrà apparire qualcosa esatto che tu devi sparare pam 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 ah mamma mia ma è terribile sto gioco cioè cosa devi fare? credo sparare è stranissimo ah ho dato la chiave ok 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 vedi da ora in poi non so minimamente cosa andiamo a fare perché ho totalmente smesso di leggere quindi abbiamo fatto un gran bel punto grazie ai consolini siamo arrivati un sacco più avanti rispetto alla scorsa volta ok ma adesso è tutto improvvisato ok ci chiudiamo questa bella porta scendiamo la luce l'ho spenta o l'acceda secondo te? come è spenta? eh sì è un po' ok se c'è un armadio per nascondersi vuol dire che in questa zona può venire il vicino allora c'è una torcia una trappola un quadro strano una radio sto cercando di capire cosa c'è capito? ok qua non c'è altro quindi dobbiamo andare in questa porta ok ok si fa interessante stiamo ma quanto è grande sta casa? semplicemente una porta che porta una porta che porta? una porta che ci fa tornare in questa zona che comunque noi avevamo già visto ok perfetto io ho paura che adesso lo becchiamo il vicino questa credo che ci serva sinceramente anche secondo me guarda cosa voglio provare vicino non ci sei giusto? non è che ci compare all'improvviso no ok ok hai buttato giù il lucchetto no ok no 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 e scusami non si usa questo oggetto per il martello secondo me no il martello serve a togliere ah vedi si chiudi oh mamma mia ci siamo? e non lo so io non voglio cantarvi tudia vado? vai vado? vai sicura? vai oh che succede? eccolo dov'era no no allora eccolo perché non era in casa tutto il tempo era in quella stanza è finito no aspetta secondo me c'è della filosofia dietro ok non rompere le scatole al tuo vicino ti piace? cioè ma davvero è la fine? si che lui ci seppellisce in quella barra e rimaniamo lì per sempre esatto cioè ne abbiamo fatto due episodi a girare intorno senza capire nulla ci spiegano due cosettine consolini e finiamo il gioco in 10 minuti una roba incredibile comunque allora voglio dire una cosa prima di tutto da quello che so ci sono altri finali alternativi e cose segrete che possiamo cercare di scoprire adesso come seconda cosa ragazzi questo qua è un gioco che non è minimamente finito l'obiettivo di quelli che hanno creato questo gioco è di fare un gioco dove l'intelligenza artificiale si sviluppa assieme al giocatore stesso quindi ogni volta che noi falliamo il diciamo il vicino diventa più appunto intelligente loro vogliono puntare su quello e creare un vero e proprio gioco intorno a questa cosa e creeranno diverse versioni più il tempo passa la versione finale del gioco è tipo a giugno si nel 2017 giugno 2017 questo diciamo che è un finale un pochettino per chiudere diciamo la prima versione del gioco non è che però ci sono tante altre cose che abbiamo lasciato in sospeso tipo? allora prima di tutto nel gioco dove si spara c'erano altri premi da poter prendere tra cui un telecomando e una mela quindi il telecomando ci serve per accendere qualcosa di sicuro e la mela non è la più pallida idea da dare da mangiare a un manichino lo squalo lo squalo cioè perché è lì capito? secondo me ci puoi fare qualcosa anche con lo squalo perché non è una cosa mi stai piacendo e poi il trenino il trenino non abbiamo modo di arrivare al trenino? non abbiamo esatto mai trovato il trenino non siamo mai riusciti ad andare in qualche stanza da cui parte perché io voglio fare il giro intorno alla casa è la cosa più bella che ho visto io sto aspettando solo quel momento quindi direi che qualche altra cosettina possiamo cercare di scoprirla proviamo dai 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 ci proviamo poi vediamo perché secondo me dai te l'ho detto non siamo stati così capito così bravi da trovare tutto da trovare tutti i misteri anche secondo me praticamente se noi prendiamo questo ok ok c'è da qualche parte un posto che puoi rompere ma davvero? si e come lo scopriamo qual è? si credo che sia un pochettino segnato ok quindi allora impegniamoci e troviamolo scopiamolo dobbiamo proprio trovare il punto dove noi con questo possiamo bucare il muro ma non è che era sotto che c'era il muro un po' ti ricordi? dove? con lo scantinato che abbiamo trovato facendo il gioco ti ricordi che c'era il muro un po' mezzo rotto oppure non c'entra nulla? potrebbe essere dovrebbe essere in un posto dove si vedono tipo i mattoni del muro esatto era lì sotto dove? devi rifare il gioco ok ok il gioco qui si spara hai capito quello che ti dico? ok quindi qua quello scantinato che abbiamo trovato si 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 ah qui vedi si non te lo ricordavi si 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 bravissima guarda oh ma bello qua si fa interessante stanza segreta qua si fa interessante una stanza segreta da mostrare i consolini allora vai vai tanto ci possiamo entrare questa ce la portiamo a casa ok come ok 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 oh mamma mia no ti prego queste cose così inquietanti no c'era un bambino col palloncino poi che ballava e correva in un acrobaleno insieme alla teologia arrivo con una pipa cosa ha un pupazzetto ma che ve lo sta succedendo no lo fai arrabbiare secondo me comunque ti farei notare oh mamma mia ti farei notare una cosa si guarda come cambiano i disegni perché vedi allora vai dall'altra parete prima sono qua tutti felici volevo dire cosa è successo siamo morti perché sta arrivando il vicino ma davvero ha suonato la sveglia scappa nell'altra stanza scappa nell'altra stanza leva la sedia e scappa lì dentro cosa dobbiamo fare cosa c'è ma non c'è nulla qui no ragazzi che cosa sta succedendo io resto qua se lui entra mi butto giù esatto ok e ti dicevo guarda come cambiano i disegni prima è tutto felice poi c'è quel peluche rotto a metà che sarebbe quello che ha spezzato quello che avevamo e tutti questi disegni un po' strani un po' macabri guarda tipo qua aspetta pupazzo più fuoco uguale chiave chiave per dove però ok ok più pazzo più pazzo c'è la chiave togli la culla quindi ce l'ha già da ce l'ha già ce l'ha da subito nel dubbio ne buttiamo anche questo e ci portiamo via il pupazzo ok ok sto d'accordo e adesso cosa facciamo dove possiamo bruciarlo nella caldaia si buona idea buona idea ok tanto il vicino guarda io non so perché non c'è più no no ti garantisco che con la sveglia l'abbiamo risvegliato però davvero l'ho sentito muoversi è ma l'ho sentito muoversi guarda questa porta noi non l'abbiamo aperta ok 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 come eccolo scappa comunque questa è una buona idea mettere il pupazzo nella caldaia e vedere che succede sono d'accordo perché vai così vicino eravamo amici non ci stavi più rompendo perché devi fare il pazzo vai via buttalo dentro fa chiudi chiudi aspetta chiudi la caldaia accendila e fallo bruciare ok e vediamo che succede non succede nulla niente giusto ragazzi ok il gioco ragazzi è pure crashato ci va sempre benissimo quando proviamo le cose comunque sembrerebbe che purtroppo mettendo comunque l'orsacchiotto nel fuoco non succede nulla abbiamo aspettato per un sacco di tempo ma non è successo nulla e anche la chiave che avevamo trovato non abbiamo capito cosa ci possa servire se lo sapete magari fatecelo sapere ma noi non abbiamo trovato nulla quindi direi che almeno abbiamo fatto del nostro meglio abbiamo il dubbio appunto dato che vi abbiamo detto che è una versione che stanno costantemente aggiornandose è quella chiave e magari servirà in futuro e quindi abbiamo scoperto qualcosa di prima del dovuto diciamo una roba del genere comunque la stanza era molto figa quindi almeno ne vassa la pena e in ogni caso ragazzi fateci sapere almeno nei commenti se avete qualche ideuzza da provare insomma qualcosina così magari facciamo almeno un altro video prima di aspettare che comunque lo aggiornino e aggiungano qualcosa di interessante anche perché io continuo a pensare che i misteri non sono finiti qua secondo me c'è ancora qualcosina da scoprire sì 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 c'è ancora qualcosa che non quadra quindi qualcosina in più qual quadra che non cosa qual quadra che non cosa vuoi fare la simpatica battuta vecchia di mille anni vabbè mi uscite mi uscite uccidete l'avete permesso comunque ragazzi ci vediamo così questo quindi sarà bene o male l'ultimo episodio per quanto riguarda la serie vera e propria ma appunto se ci proporrete diverse cose interessanti nei commenti faremo almeno un episodio in più per provare un po' tutte quelle cose giusto per curiosità e per divertirci un pochettino per è che si riscrivessi giusto lasciateci un bel like questa è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao e alla prossima ciao 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 ciao